Nevica. La città è più bella, ma le strade più pericolose. C'è chi si mette subito al lavoro e chi può stare a casa a divertirsi. Per muoversi sicuri, ci sono i mezzi pubblici. Se usi la tua auto, controlla che sia efficiente e guida con prudenza e pazienza. Pronti per l'inverno! Una campagna della provincia di Reggio Emilia AC e ACT in collaborazione con Gesta Global Service Makers.